Due sono le strade. O resto attaccato alla lettera della legge che mi dice di non guarire il sabato e non posso aiutare da cristiano ipocrita o seguo la strada della carità, dell'amore alla vera giustizia che è dentro la legge. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a casa Santa Marta, commentando il Vangelo di Luca nel quale Gesù chiede ai farisei è lecito o no curare di sabato? Loro non rispondono e lui allora prende per mano un malato e lo guarisce. Questa strada di vivere attaccati alla legge li allontanava dall'amore e dalla giustizia. Curavano la legge e trascuravano la giustizia. Curavano la legge e trascuravano l'amore. erano modelli, erano i modelli. E Gesù per questa gente soltanto trova una parola, ipocriti. Da una parte vai per tutto il mondo cercando proseliti, voi cercate e poi chiudete la porta. uomini di chiusura, uomini tanto attaccati alla legge, alla lettera della legge, non alla legge che la legge è amore, ma alla lettera della legge che sempre chiudevano le porte della speranza, dell'amore, della salvezza, uomini che soltanto sapevano chiudere. Questa è la strada che ci insegna Gesù, totalmente opposta a quella dei dottori della legge. E questa strada, dall'amore alla giustizia, porta a Dio. Invece l'altra strada di essere attaccati soltanto alla legge, alla lettera della legge, porta alla chiusura, porta all'egoismo. La strada che va dall'amore, alla conoscenza e al discernimento, al pieno compimento, porta alla santità, alla salvezza, all'incontro con Gesù. Invece questa strada porta all'egoismo, alla superbia di sentirsi giusti, a quella santità, fra virgolette, delle apparienze. Gesù dice a questa gente, ma a voi piace farvi vedere dalla gente, come uomini di preghiera, di digiuno, di farsi vedere. E per questo Gesù dice alla gente, ma fate quello che dicono, ma no quello che faccio. No quello che fanno.